buongiorno buongiorno a tutti questo è il passaggio che ci porta alla spiaggia nei pressi di sabaudia ritorale di sabaudia eccoci qua oggi è ventilato tiro molto vento vediamo adesso com'è il mare diciamo che ci sono altri passaggi più comodi basta passare nei barretti ci sono le scalette in legno noi siamo attenzionati a questa parte di litorale che ci venivamo da tanti anni eccoci ah ah peccato un po mosso il mare che peccato bello però non c'è nessuno a parte qualche coppietta non dico altro molto tranquillo laggiù si vede latina da lontano latina no forse non è latina ed ecco il promontorio del ciceo la fortuna di essere pensionati è questa si può avvenire dentro la settimana e non c'è tutto quell'affollamento del sabato della domenica bello bellissimo questo mi sa che sarà l'ultimo vlog poi il prossimo lo farò in alto abige è normale secondo voi sarà il mare per pensare alla montagna? no eh secondo me no andiamo bene bene amici ora farò una bella passeggiata arriverò quasi giù poi farò una foto anzi un altro piccolo vlog ci vediamo dopo ciao a tutti un abbraccio e un bacione grande grande grazie a tutti